bentornati a tutti quanti sul canale più ferro di usa per il vostro jason allora ragazzi ieri sera si è stato del volver direct di isbox ovvero un showcase piccolo di inizio anno in cui hanno mostrato la line up del 2024 anche se penso che non sia completamente tutta però però poca roba non è quindi partiamo in ordine di presentazione sono partiti col presentarsi di nuovo evaude di obsidian entertainment che è praticamente un gdr fantasy che molto colorato molto molto strano ecco devo dire tra l'altro obsidian ha fatto dei capolavori come outer wars che a molti non è piaciuto ma io l'ho pressato moltissimo grounded era un gioco un po più piccolino però comunque poi hanno sviluppato anche i vari di fallout mi sembra che loro abbiano sviluppato new vegas che è uno dei capitoli forse che mi era piaciuto di più di tutta la saga perché offriva qualcosa di diverso ecco e diciamo che è questo gdr fantasy anche nel lancio del game pass ovviamente in autunno 2024 non c'è ancora un mese specifico non adatta ma lo rivedremo sicuramente durante il summer game fest allo showcase xbox quello bello grosso quindi secondo me se tanto ancora da vedere gli avaud andando avanti e abbiamo invece la presentazione dopo è stata dedicata a hellblade 2 altro titolone incredibile lo vedo però molto cinematografico quindi io credo che dipende quanto gameplay ci sarà il primo non è aveva tutta questa struttura di gameplay ecco c'era qualche volta qualche combattimento più esplorazione era molto lineare con qualche enigma però era molto bello questo non vedo l'ora di giocarlo il 21 manzo a lancio nel game pass qui non ho lanciato la data avere blade sarà tra pochi mesi veramente bellissimo se per me è stato un bel regalo poi square enix ha presentato un titolo a sorpresa e un altro pubblico e poi presentato questo gestionale ara si chiama dove presentamente tutte le civiltà diverse questo qua dovrebbe buttare anche questo per la fine 2024 mentre ciò con gli square enix se li butterà in estate 2024 qui abbiamo delle vie abbastanza promettenti sparpagliate bene nell'arco dei mesi prima di proseguire con l'ultimo grande titolone che stavo aspettando vi ricordo che stalker 2 altro grande titolo in sbox se ne arrivo anche l'asile game pass arriva il 5 di settembre se non sono tre di vie quindi anche lì lo rivedremo probabilmente al summer game fest per chiudere battenti parliamo di quello più atteso e ovviamente indiana zones the great circle era il gioco di machine games teaserato anni fa che doveva essere presentato l'anno scorso però per qualche intoppo si vede che non hanno voluto presentarlo ancora e grande sorpresa noi si aspettavamo un indiana zones dalla farsa diversa invece proprio Harrison Ford risovanito digitalmente perché sorpresa delle sorprese il gioco è canonico e canonico è incastrato tra i predatori l'arca perduta e l'ultima crossata infatti si ritrolla anche l'arbitat dell'esitto se andrà nell'himalaya se sono anche luoghi che non si sono ancora visti nella 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 lore dei fini di anna zones ecco e secondo me è un ottimo gioco per i fan nella musica a sé e sa quella ti basta casarti gli enigmi si sono e usi i commettimenti con la frusta un po con la pistola ti arrampi con un po l'unzarted però il problema che è in prima persona io avrei preferito in terza perché io volevo vedere indiana zones volevo vedere lui però piglini missili scassotti per me sa quello è top bisogna capire soltanto gli enigmi se sono facili o se sono un po complessi ecco perché ho paura che forse il rischio di enigmi un po troppo sviluppati direttamente ci sia però staremo a vedere poi per il resto un ottimo gioco mi sembra abbastanza lineare non è il solito open world grazie a dio mi sono rotto che può fare le balle degli open world e per me va bene così nel senso per me va benissimo così perché ripeto è un gioco che deve essere quello che è lineare strutturato bene non open world con una narrazione molto forte e niente ragazzi questo è tutto quello che vuoi dire questo domani da lette mi è piaciuto sì secondo me xbox è partita con la botta bella forte ed era anche ora che microsoft si desse una velo sensata sul presentare i propri titoli ha creato praticamente un evento che ti presenta la line up di quest'anno e su tutti i giocchi diversi infatti il punto forte di xbox è pensato la diversificazione abbiamo un cdr fantasy abbiamo un gioco narrativo cinematografico che è il blade abbiamo un gioco l'avventura che indiana zonzo abbiamo un gestionale abbiamo un gioco un po più semplice sotto che quello di square enix ecco tutti i prodotti diversi quindi e poi abbiamo stalker 2 che è uno sparatutto alla metro praticamente prima persona anche quello è un altro gioco diverso abbiamo sei titoli sei titoli e per adesso di cui uno non è esclusiva mi sa perché quello di square enix è dubito che si è esclusiva xbox però gli altri quattro sì e a meno che di qualche sorpresa però non credo perché indiana zonze a lancio nel game pass quindi non credo sia un multipiettaforma mi dispiace dirvelo non penso proprio e quando i giochi a lancio nel game pass sono sempre i più esclusivi di microsoft quindi vediamo un po' come sarà fatteci probabilmente sotto come pensate di questi giochi di cui vi ho mancato vi ho parlato di questo roba perché film adesso non ne stanno uscendo è difficile anche valdere le sensazioni farò qualche retrospettiva su qualche film vecchiotto qualche saga che ho recuperato di recente che arriverà in questi giorni perché i film più sessosi arrivano dal 25 diciamo che se povere creature quello è un film un po' più interessante da vedere e resensirvi se b keeper adesso in sala quello con jason statman che dovrò recuperare vedere anche quello però film sessosi sessosi non se ne stanno quindi fino a dune almeno c'è fino a madame web e non c'è niente di troppo grosso quindi fateci probabilmente sotto cosa pensate di questi titoli quale state aspettando di più quale di soccherete io sicuramente non la so se non vedo l'ora e noi ci vediamo al prossimo video ciao a tutti